La Chianina ambasciatrice nel mondo delle bellezze della Val di Chiana con la quattordicesima edizione della Valle del Gigante Bianco, la manifestazione presentata in regione toscana in programma per due settimane dal 25 maggio al 3 giugno. Non solo cene e degustazioni ma anche rievocazioni storiche, visite agli allevamenti e percorsi sul territorio tra Bettolle e gli altri comuni aretini e senesi della vallata, perché la Chianina è un marchio toscano conosciuto ovunque. Voglio ricordare che questa razza autoctona ha una richiesta a livello mondiale molto più forte, molto più alta di quella che è l'offerta. Vediamo se è possibile in questo tipo di percorso valorizzare anche questo insieme. In programma anche percorsi ciclopedonali e in treno per scoprire il territorio della Chianina tra i tanti borghi storici che ne costellano le colline. Siamo contenti di collaborare con l'associazione, con i comuni in maniera tale da mettere a disposizione in alcune occasioni la possibilità di treni speciali che utilizzano questa piccola ferrovia che è la Arezzo Sinalunga oppure magari aiutandoli a organizzare questi percorsi ciclopedonali. Obiettivo della manifestazione è fare della Chianina il motore dello sviluppo socio-economico dell'intero territorio della Val di Chiana. La Chianina che diventa anche un elemento strategico proprio per lo sviluppo del territorio della Val di Chiana, che non è solo Chianina, quindi tutta un'altra serie di valori che la Val di Chiana esprime e che insieme con la Chianina può diventare veramente una carta vincente per promuoversi nel mondo. Grazie a tutti.